Elena Prestes si avvicina e stuzzica Lorenzo Spolverato nella casa del grande fratello. Shai la gatta rivela di fare il tipo per i due concorrenti. Lei è una ragazza sensibile che ha bisogno di affetto. Ti aiuto io. Le dinamiche nella casa del grande fratello si fanno sempre più bollenti e interessanti. Elena Prestes, che sembrava inizialmente attratta dall'ex tentatore Javier Martinez, nelle ultime ore si è avvicinata particolarmente a Lorenzo Spolverato, che non ha mai nascosto di avere un interesse per Shai la gatta. Lorenzo cambia strategia al GF. Stasera, lunedì 23 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del grande fratello. Nell'attesa, nella casa, le dinamiche si fanno sempre più interessanti. Dopo essersi avvicinata al pallavolista Javier Martinez, Elena Prestes ha iniziato a stuzzicare e provocare Lorenzo Spolverato. Mi piace provocarti ha confessato la modella al milanese provocandolo. Il comportamento assunto da Elena ha sorpreso Lorenzo, che sembrerebbe aver cambiato obiettivo. Dopo aver palesato il suo interesse nei confronti di Shai la gatta, che gli ha rifilato un bel due di picche, il concorrente milanese è tornato da lei nelle vesti di amico per chiederle un consiglio su come comportarsi con la modella. Una richiesta insolita che, però, potrebbe celare una strategia, ovvero quella di far ingelosire la ballerina. Io mi ci vedo bene con Elena. Trova il momento giusto per parlarle di me, adesso no che sono imbarazzato. Non crearla te questa cosa però. Anche tu hai bisogno di affetto, io ci sono. Se capita, noi dobbiamo aver creato un'amicizia se no lei è gelosa. Elena e Lorenzo vicini, le parole di Shaila. L'avvicinamento inaspettato nella casa del grande fratello tra Elena Prestes e Lorenzo Spolverato ha sorpreso un po' tutti e provocato la reazione di Shaila gatta. Parlando con il concorrente milanese Egilio, l'ex allieva di Amici e Velina di Striscia, la notizia ha rivelato il suo pensiero sulla modella e confessato di fare il tifo per loro e di vederli bene insieme, se tu ti innamori di Elena sei fortunato. Lei è una ragazza molto sensibile, ha bisogno di tanto affetto e tu la puoi accogliere. Ti aiuto, mi impegnerò. La ballerina, che ha ammesso di essere in curiosità da Javier Martinet, riuscirà nel suo intento? Staremo a vedere. Ricordiamo che l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera, lunedì 23 settembre, su Canale 5.